Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale della carriera allenatore con l'Inter Signori, allora come vi ho detto nello scorso episodio, vi ringrazio come sempre per il supporto ragazzi Perché questa sera vi piace un sacco, mi date un sacco di consigli Come vi ho detto nello scorso episodio appunto, oggi saranno tre partite, quindi tre match Palermo, Bologna e Roma Partite toste come sempre su questo gioco quest'anno, ma dobbiamo iniziare a fare un po' di punti ragazzi Dobbiamo inserire, dobbiamo fare una serie di vittorie per cercare di prendere un po' posizione in classifica Perché per il momento siamo undicesimi, la classifica come vedete è ancora cortissima ragazzi Però bisogna iniziare a vince, quindi scontro praticamente alla pari con il Palermo oggi Come ho già detto bisogna vincere, io direi signori che si può subito andare con il primo match Senza perderci in chiacchiere anche perché ce ne sono tre da fare Questa è la formazione di oggi ragazzi, come potete vedere gioco a campione Me lo chiedete un po' di persone, l'avevo già detto, però comunque sto giocando a campione Eccoci qua signori, Palermo Inter, stadio classico Forza ragazzi, concentrati e puntiamo alla vittoria Ah come mi avete consigliato ho lasciato Teyes titolare al posto di Luke Shaw Me l'avete consigliato in molti e l'unica differenza che ho trovato è che Teyes si propone veramente tantissimo ragazzi Attenzione a Gilardino che se ne va con molta facilità anche a Musacchio, poi Teyes, gran chiusura Dai Andanovic esci madonna quanto ci metti Attenzione se ne è andato Vasquez a Miranda, attenzione perché ultimo uomo Miranda Lo controlla bene però Vasquez Rigoni, largo per Daprela, la mette in mezzo, esce bene a Samira Andanovic Kane per Perisic, molto bene qua Se la può allungare un filo Perisic, poi la mette in mezzo, dove c'è Jovetic? 1-0 Inter, steva Jovetic, gran azione e gran gol Altro gol del Montenegrino signori, mamma mia che si sta rivelando veramente un fenomeno come mi avevate detto 1-0 Inter, grande azione, gran cross di Perisic, un pelo arretrato Ma Jovetic molto bene, è andato incontro al pallone e di testa ha purgato Sorrentino che ormai riusciva a fare il miracolo Guardate Jovetic come torna indietro per colpire questo pallone E 1-0, assist per Ivan Perisic E adesso attacca il Palermo ragazzi, a pieno organico quasi Grande ritorno di Perisic, che poi si fa male Sei fortunato Perisic ragazzi, allora Esci, esci, anda Sei fortunato Perisic, gravemente anche, sono costretto a sostituirlo Non ci credo, un altro infortunio così, vabbè Dentro Bolasio e al posto di Perisic Kane Si fa vedere Bolasio Che se ne va con un trick Poi la mette in mezzo Dove c'è Icardi, che fa la sponda per Jovetic Bolzoni chiudi tutto se non sbaglio Si ne va con Dogobia Bella palla per Jovetic Davanti a Sorrentino 2-0 Stevan Jovetic signori Non la chiude, ma mette una buona ipoteca Perché al fine del primo tempo 2-0 è buonissimo Così il Palermo va proprio nell'ispolatoio con questo 2-0 incassato Inaspettato Grande palla di con Dogobia 2-0 Inter signori Doppietta per Stefan Jovetic Finisce qui il primo tempo Inizia qua il secondo tempo Ma bisogna stare attenti adesso No ragazzi No Ma no Ma basta Questi falli Porca puttana Ogni volta che spingo quadrato Ve lo giuro Mi da fallo Cioè non so cosa fare È il contrasto semplice Zilardino Andanovic Samira Andanovic Signori Che miracolo su rigore Samira Andanovic Questa è una gran parata Porca traga Mi sono scordato di mettere capitano Riccardi Vabbè Buon dare Flore Buon dare Flore C'è Riccardi Posizionato benissimo Mauro Riccardi Ho perso una cuffietta Maurito Riccardi 3-0 signori Che palla di Florenzi Ma che palla di Alessandro Florenzi ragazzi Mamma mia Scampagnata Poi guardate Riccardi Liberissimo E Florenzi dà un pallone a giro Pazzesco Pazzesco Riccardi Ovviamente Da di lì Non sbaglia di testa E Marez Che si è visto poco Metto Metto Felipe Melo E Nukuri E li scambio Così direi che Siamo abbastanza Difensivi Ma comunque Abbiamo una buona dose Di contropiedi Con Jovatic Bolasi E Icardi Ecco Primo pallone toccato da Nukuri Che l'altra volta Ha fatto una magia Può andare Nuku È fresco Attenzione ai Kinderpingui La rimette in mezzo a Nukuri Per Riccardi Vado a Nukuri Il Kinderpingui Signori Perché è fresco Stava per fare un'altra magia Ma qua Sorrentino Ha tolto la palla Da dietro al palo Praticamente Ma come Miranda Ha avuto i calci d'angolo Largo per Mauro Riccardi Che rientra nello stretto Può andare Mauro Riccardi Attenzione Può andare Mauro Cosa ha fatto Mauro Cosa ha fatto Mauro Signori E può stare al calcio D'angolo E finisce qui Signori Tre punti importantissimi Nella saccoccia Continuiamo così Comunque Signori Giocatore infortunato Ivan Perisic Ha subito un'infortuna E sarà indisponibile Per quattro settimane Distorsione alla caviglia Ragazzi Non ci va per niente bene Allora ragazzi Partito da non sottovalutare Quella col Bologna Ma che comunque Mi permette Di provare Qualche altra Qualche altro modulo E qualche altro giocatore Per esempio Difesa quattro Con Luke Shaw Murillo Miranda Santon Poi Nukuri Melo Con Dogbia Iovetic Kane Palacio Con pronto a subentrare Ovviamente Icardi Iaiz D'Ambrosio Musacchio Eccetera eccetera Piove Piove sempre Porca puttana Comunque partiti Bologna Inter Bisogna Assolutamente Portarsi a casa Altri tre punti Ben recupero Di Santon Può far ripartire L'Inter Con Iovetic C'è Harry Kane C'è Harry Kane Harry Kane Davanti al portiere Il tiro di Kane Mirante Il tiro di Tider Andanovic La respinge Non mi sembrava Pericoloso Questo tiro Ma Si vede di si Ricupero di due minuti Intanto Con Harry Kane Che prova da solo A portarsi a spasso A tutta la difesa Del Bologna E quasi ci riesce Ancora Kane Ancora Kane Iovetic Senti da Palacio Il tiro di Palacio Signori 1-0 1-0 Inter al 45esimo Mamma mia Che astione Mi avete consigliato Di fare più gol Della merda Questo non è proprio Un gol della merda Ragazzi Però è una gran Azione Cosa ha fatto Harry Kane Mamma mia Aspetta E fa andare Nukuri Attenzione Nuku Mirante Mirante Signori Cos'è successo Cioè Mirante ha sbagliato Il controllo E si è fatto Autogol 2-0 Inaspettato Felipe Melo Bradem Yates La mette a mezzo Dove c'è Kane Che arriva In anticipo Su nessuno 3-0 Così Ragazzi Con Dogbia Kane purtroppo Non è riuscito Ad anticipare Il difensore L'hanno lasciato In due Poi con Dogbia Era solo Soletto Ed è riuscito A metterla Alle spalle Di Mirante Con un tocchettino Easy Attenzione a cercare Li può metterla In mezzo Ma questo Ma non è Calcio di rigore Non sono convintissimo Fosse calcio di rigore Sinceramente Però Acqua fresca Qua tira un rigore Della madonna 3-1 Con Dogbia Lancia Palacio Attenzione Gran lancio Di Con Dogbia Per Palacio Palacio La mette a mezzo Dove c'è Harry Kane Che finalmente Meritatamente Segna il suo primo gol In Serie A Grazie Rodrigo Palacio 4-1 Inter E partita strachiusa Se lo meritava Perché ha fatto Due o tre prestazioni Veramente molto positive Ma senza trovargli il gol Anche per merito Dei portieri Avversari Finisce qui Signori 4-1 Altri tre punti Come ho già detto Partita tosta Che all'inizio Sembrava tosta Perché il Bologna Si difendeva Ed attaccava Alla grande Ma siamo stati Bravissimi A trovare Il vantaggio Alla fine del primo tempo E a continuare Ad attaccare Intanto A San Yucuri Ha subito un'infortunio Sarà indisponibile Per tre settimane Tipo di infortunio Iperestensione Del ginocchio Volevo farvi vedere Come già si è Accorciata La classifica Con queste vittorie 18 punti La Fiorentina Che è sopra di noi Ne ha 20 Insieme alla Lazio Poi il Milan E la Juventus La Juventus La Juventus La Juventus La Juventus Proprio per questo La partita con la Roma Diventa essenziale Veramente Veramente Essenziale Bisogna A tutti i costi Vincere Andiamo a giocarci Il match con la Roma Con questa formazione Ragazzi 4-2-3-1 Con Icardi Prima tu Punta Accompagnato De Jovetic Kane È praticamente morto Lo lascio in panchina Poi magari A inizio Secondo tempo Cambio qualche formazione Poi Bolasi Iaic a destra Filippo Emelo Con Dogbia Tayes Musacchio Miranda Florenzi E Andanovic Andiamo a giocarci Questo match Davvero davvero Molto importante Florenzi Che palla Che ha recuperato Flore Attenzione L'ha metto in mezzo Per Iaic Chesni Parata quasi semplice Ma subito Una grande Occasione Per l'Inter Ecco Stavo per dire Totti si inventa Dei palloni incredibili Poi Gervinio qua Fa una Autogol Di Miranda Era nato Per salvarla E l'ha proprio Buttata dentro Peccato Filippo Emelo Può andare Jovetic Davanti a Shesni Che tiro Da merda Gli è rimasto Dietro il pallone Gli è rimasto Dietro il pallone Purtroppo Jovetic Può andare Bolasi Può andare Bolasi Il tiro Di Bolasi Che tiro Di me Perché tirano Così di merda Cazzo Manco tirassi A giro Cioè Questo è Quadrato puro Riccardi Che palla Per Bolasi Esce benissimo Shesni Peccato In questo momento Meritiamo Il pareggio Poi Filippo Emelo Bolasi Icardi Chiuso In maniere Un po' Dure Ma con Prendendo il pallone Da parte di Rudiger Se giochiamo così Ce la possiamo fare Continuiamo Oh Che culo Teyes Per Jovetic Il tiro di Jovetic Ma Cos' Cos'è successo Cosa ha fatto Shesni Ragazzi Che barata Ha fatto Shesni In che modo Gli si sono allungate Le braccia Se ne va bene Kane Porca puttana Poi Filippo Emelo Jovetic Per Icardi Signori Mauro Icardi Ma che gol Ma che cazzo di gol Pareggio Meritatissimo Con un'azione Splendida Mamma mia Mamma mia Cosa ha fatto Jovetic Qui Filippo Emelo Pallone Fantastico Per Jovetic Che poi la mette in mezzo Questo Il gol della merda Ma fantastico Gran gol Pareggio meritato Adesso la andiamo a vincere E adesso la andiamo a vincere Questa partita Perché è questo che meritiamo Attenzione Bolasi Che parata ha fatto Shesni Che parata ha fatto Shesni Si è andato benissimo Bolasi con il numero Poi Ais La mette in mezzo Meritiamo Tutto Meritiamo La Roma non ha più Fatto niente Ragazzi Porca boia Peccato per questo autogol Eccolo Mares Icardi Kane Jovetic Che palla Per Bolasi Il tiro di Bolasi Poi Manolas Colpetto In calcio d'angolo Finisce qui Uno pari Peccato Peccatissimo ragazzi Davvero Assolutamente Pareggio non meritato Come si può Guarda Ste cose mi fanno veramente Incazzare tantissimo 10 tiri Salta in porta Zero tiri in porta Non ha mai tirato in porta Ragazzi La partita è finita Uno a uno Ma guarda che sta cosa Incredibile Proseguiamo un attimo Per vedere Contro chi siamo Le prossime Partite Ma così vi posso far vedere Anche la classifica giornata Torino Bel match Classifica giornata Ragazzi La Juventus Sta volando Praticamente La Juventus Sta volando Sarà dura Comunque siamo quinti ragazzi Zona Europa League La prossima partita Siamo contro il Torino Direi che anche il prossimo video Potremmo fare Potremmo fare tre partite Così da fare Torino Frosinone E Napoli Mi sembra giusto Ho una buona tripletta Intanto andiamo un attimo Nell'ufficio Direi che per questo video è tutto Avete visto tre partite bellissime Sette punti in tre partite Sono tanti comunque Con la Roma Meritavamo qualcosa di più Mettete un mi piace ragazzi Per sostenere la serie Noi ci vediamo al prossimo video Un saluto da mezzo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi